La precision medicine è il futuro dell'umanità. Se uno ci pensa, dalla rivoluzione scientifica in poi, quindi dal 1600 in poi, l'uomo attraverso la rivoluzione scientifica mira due cose. Uno la felicità, due l'immortalità. Ok, la precision medicine sta attaccando il secondo problema, l'immortalità. Quindi questo da una prospettiva storica. La precision medicine ha difficoltà di definizione, che cosa è esattamente? Beh, è capire i meccanismi di malattia e andare a interferire sullo specifico meccanismo o specifici meccanismi di malattia. Ci stiamo arrivando, sembrava una chimera fino a 3-4 anni fa, poi è successa la rivoluzione. Rivoluzione che non è stata solo l'immunoterapia, ma è stata l'immunoterapia più altre terapie a versaglio molecolare, oggetto prodotto della precision medicine. Quindi, il valore in assoluto di questo, beh, un senso di, è quello di cui noi abbiamo bisogno per il futuro, un valore pratico ce l'abbiamo già. E cioè, io faccio un test, mi viene alterato, mi viene MSI invece che MSS, io so che ho di fronte una avenue di trattamenti nel colon retto innovativi, diversi dalla chemioterapia, diverse dalle classiche terapie biologiche, cioè anticorpi, eccetera, che mi danno risultati assolutamente insperati. Quindi questo è il riscontro sia filosofico sia pratico oggi. C'è poi un riscontro pratico un pochino meno entusiasmante, e cioè il fatto che le autorità regolatorie europee, al contrario di quelle americane, che secondo me nel caso specifico hanno più ragione, sono troppo conservatrici. Quindi, mentre l'FDA ha già registrato ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab e un sacco di altri checkpoint inibitori, quelle europee non hanno registrato. E quindi noi abbiamo dei problemi grossi come case, nel far fronte alle richieste dei nostri malati e delle nostre coscienze di che cosa fare. L'esperienza che abbiamo maturato noi è buona per quello che riguarda le aspettative future. in stand-by per quello che riguarda il ritorno immediato, attuale. La nostra esperienza che cosa... Sto parlando quindi delle platforms, quindi l'esempio è Foundation One, c'è anche Garden, c'è Sismex, una serie di cose. A noi c'è stata offerta la possibilità di maturare una certa esperienza su Foundation One. E mi sono anche trovato ogni tanto a suggerire a qualche malato di guarda, prova un momento a farti lo screening dei 330 geni, non si sa mai. Di fatto finora l'utilità di questo è sempre stato nell'identificare il mutational burden e l'MSI e MSS. Perché poi l'incidenza di altre cose, tipo fusioni, tipo mutazioni strane che magari non sono druggable, quindi quell'aspetto lì, devo dire, finora lascia molto a desiderare in termini di impatto pratico. Rimane una grossa sensazione interiore di di cosa che tu vuoi fare. Perché sei come spinto dal effetto possibilità. È possibile che io trovi una cosa che sia quasi miracolosa? Ecco, e quindi siamo molto colpiti noi abbiamo due sistemi, no? Per valutare e per formarci il nostro giudizio. Il sistema 1 e il sistema 2. Il sistema 1 è intuitivo, il sistema 2 è invece più razionale, passa dalla corteccia. Ecco, qui il nostro sistema 1 prende il sopravvento e ci dice ma come fai a negare la possibilità? Fai so test. Ecco. Ho dato un messaggio un po' ambivalente ma perché attualmente è così la cosa. Il futuro è lì però. sociaux di fin, c'è Grazie a tutti.